Buongiorno a tutti, in questo delicato periodo di emergenza sanitaria abbiamo realizzato per voi un breve tutorial che vi consentirà di mettervi alla guida della vostra nuova Alfa Romeo Stelvio. Grazie al dispositivo Keyless possiamo effettuare sia l'apertura che la chiusura della vettura tramite la maniglia esterna. Apertura, chiusura. Non dimenticando di avere a portata di mano l'apertura e chiusura a distanza col nostro telecomando. Per quanto riguarda la portiera al lato guidatore, troveremo i comandi dei quattro alzacristalli elettrici, sia anteriore che posteriore, regolazione della richiudibilità degli specchi esterni elettrici della vettura, apertura portellone posteriore, fascia plancia cruscotto, la manopola per l'attivazione dei comandi dei fari anteriori, posteriori e fendinebbia. Per quanto riguarda il nostro volante, sulla parte sinistra troviamo i comandi per l'attivazione dei dispositivi di sicurezza ADAS di secondo livello. Nella parte destra, comandi per il bluetooth, autoradio ed eventualmente per l'infotainment touch, ci sarà anche la possibilità di utilizzare il rotary pad, freno di stazionamento elettrico.